Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questo spazio di approfondimento dopo il telegiornale. Questa sera parleremo di economia, di modelli aziendali, di aziende che si rinnovano anche nella scala gerarchica, modelli aziendali, come cambiano, come si evolvono. Lo facciamo anche in virtù di un convegno che si terrà fra pochi giorni, venerdì, e lo facciamo insieme a Jacopo Frattini, presidente del Centro Studi Economia e Territorio. Benvenuto Jacopo. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora, Jacopo Frattini, una vecchia conoscenza, lo rivedo con piacere, anche in una veste diversa da quella che conoscevo. Jacopo, però, giustamente ti ho presentato come presidente di un centro studi che verte la sua attività principalmente sull'economia. Per chi non conoscesse che cosa fate, chi siete, facciamo una piccola carta di identità in apertura. Innanzitutto, buonasera a tutti. È un piacere di nonche per me rivedere e essere qui negli studi di Fano TV. Chi è l'associazione Centro Studi Economia e Territorio? Beh, è una domanda che può sembrare semplice, ma in realtà racchiude tante chiave di lettura. Innanzitutto è un'associazione che è nata ben quattro anni fa, nata dallo spirito di professionisti, docenti universitari e esperti di economia che hanno voluto creare un punto di riferimento per tutto il territorio. Un luogo, uno spazio dove approfondire, analizzare con grande attenzione, ma soprattutto con grande puntualità, i più grandi temi che caratterizzano e coinvolgono la città di Fano e non solo. Da quattro anni abbiamo organizzato decine di convegni, momenti, occasioni di riflessione, coinvolgendo anche ospiti di spessore e di grande livello, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Ovviamente non lo dico per piageria, ma proprio lo dimostrano i curriculum delle persone che sono intervenute, a partire dal ministro degli esteri Alfano, all'amministratore delegato del gruppo Ferretti, Alberto Galassi. Abbiamo avuto anche business angel che ci hanno anche fatto capire come cambia il mondo imprenditoriale, abbiamo avuto il rettore dell'Università di Urbino, Vilberto Stocchi e tanti altri. Con tutti questi redattori abbiamo cercato di analizzare, studiare in maniera attenta, precisa, ma soprattutto con lo spirito di chi vuole apprendere e capire come cambia il mondo dell'economia e come cambia la società, con il fine di trovare delle soluzioni concrete. Sicuramente due tratti distintivi dell'associazione di cui sono presidente sono la praticità e successivamente anche la grande voglia di comprendere, quindi la comprensione di quelli che sono i grandi cambiamenti e sviluppi sociali che coinvolgono appunto il nostro territorio. Ecco, venerdì 13 alle 17.30 a Palazzo San Michele si terrà proprio un convegno di cui vediamo anche alle nostre spalle l'incipit, il titolo, insomma si parla di un modello marchigiano, discuterete con una serie di relatori che dopo magari presentiamo nel corso di questo approfondimento, però il titolo è molto chiaro, azienda, famiglia, management, cambio generazionale, insomma un argomento molto attuale. Allora diciamo innanzitutto che quando, tra virgolette, ci poniamo la domanda su quale argomento volevo affrontare, sentendo anche il parere, il pensiero dei nostri tesserati che ci sostengono, che ci seguono nelle iniziative che organizziamo, è emersa la tematica legata al passaggio generazionale in una qualsiasi azienda, quindi in una PMI. Il tema che caratterizza quindi il passaggio tra la prima, la seconda generazione, tra la seconda generazione e la terza generazione è un aspetto molto sentito, proprio perché le statistiche dicono che questa sfera, questo segmento di aspetto legato alla successione rappresenta un ostacolo per chi vuole, tra virgolette, far sì che la propria azienda passi di mano agli eredi o ai figli. Scorrendo in maniera anche molto sintetica le statistiche, questo lo si capisce già da una prima lettura, questo perché Lino? Perché diciamo che in Italia la gran parte delle aziende, lo sviluppo economico si è avuto appunto con il boom economico, quindi siamo poco dopo la seconda guerra mondiale e quindi ci troviamo in Italia questa grande espansione a livello economico che ha fatto sì che la gran parte delle aziende, circa l'85% nascesse proprio in quel momento storico lì. Arrivati al 2018 ci troviamo di fronte a una grande sensibilità, un grande punto di rottura, un break point significativo, questo perché? Perché le statistiche dicono anche che solamente il 30% delle aziende resiste nel primo passaggio generazionale, cioè da padre a figlio e solamente il 15% resiste nel passaggio generazionale tra il secondo e il terzo livello. Ci troviamo di fronte a numeri molto significativi e molto anche potenti che trasmettono quindi una certa potenza, una carica significativa. Sempre analizzando i numeri ci troviamo di fronte a un modello, soprattutto a livello marchigiano, di un'azienda improntata sul capofamiglia, quindi improntata sul valore di riferimento di chi l'ha fondata, proprio perché nelle marche, come dicono molti docenti universitari, c'è una certa sartorialità imprenditoriale, cioè il capitano di impresa che con coraggio è riuscito a creare un'azienda di successo e che naviga proprio puntando sulla tenacia di chi la dirige. Sempre analizzando le statistiche noi abbiamo in Italia un 63% di aziende che hanno il riferimento, il capo, il capitano con più di 60 anni. Questo numero si ricollega un po' a quello che stavo dicendo prima, se noi analizzassimo l'aspetto temporale, un'azienda nata nel dopoguerra ha oggi il proprio riferimento che ha un'eternagrafica che si aggira intorno ai 60-70 anni e quindi emerge un tema. Cosa succederà al termine dell'esperienza terrena e quindi nel momento della morte del proprietario? Sono stati messi in campo tutti quei processi per garantire che cosa? Un aspetto fondamentale, la continuità aziendale, che è un valore dentro cui tutto il management dell'azienda, quindi la governance deve porsi affinché ci sia la continuità di sviluppo. Analizzando poi, prendendo come riferimento un altro tema che ci fa capire anche come è strutturato il nostro tessuto economico, ci dice che il 64% delle aziende con più di 50 dipendenti sono a conduzione familiare. Quindi tutte quelle aziende medio-alte, quindi di una certa dimensione, hanno una conduzione familiare. Quindi la gestione in mano alla famiglia, che nel corso degli anni, nel corso dei decenni ha costruito e lavorato finché l'azienda crescesse, avesse un modello di business chiaro. Il numero e il dato percentuale sale al 70% se consideriamo che il 70% delle aziende tra i 20 e i 50 milioni di euro sono sempre a conduzione familiare. Quindi in Italia, ma soprattutto nel territorio marchigiano, c'è una grande vocazione familiare nella gestione dell'azienda, proprio perché il territorio, la sua identità, ha permesso di coniugare, di formare questo grande emblema e far sì che esistessero questi due elementi, proprio aziende e famiglie. Come c'è nel titolo, vogliamo soffermarci sull'analisi di quali sono le prospettive, perché come dicevo prima, la nostra associazione, da quando sono diventato presidente ho deciso con altri amici di avventurarci in questa esperienza, abbiamo proprio messo come primo punto focale quello di dare praticità. Mi è capitato spesso anche per il lavoro, tu lì non lo sai bene, di partecipare a convegni in cui molte volte si parla, si discute, si ragione, ma alla fine manca sempre poi quella sintesi, quel punto concreto. Tirare un po' le fila. Tirare un po' le fila, ma non tanto come punto di vista, ma proprio dare una sorta di esempio concreto di quelli che possono essere gli interventi da mettere in campo. Questo è sicuramente un tema molto sentito durante il convegno, quindi non mi sbottolo più di tanto perché altrimenti togliamo l'interesse del convegno. Cerchiamo proprio di dare delle risposte concrete con gli illustri relatori che parteciperanno insieme a me nella disamina di questa tematica, come ripeto per l'ennesima volta, molto sentita e importante. C'è un po' anche una differenza, tu parli di modello marchigiano, perché se pensiamo al nord Italia, a Milano, dove c'erano i grossi gruppi imprenditoriali, dove c'era proprio l'industriale con grossi numeri anche dal punto di vista occupazionale, qui da noi ci sono esempi come Scavolini, Berloni, Sece, però c'è un artigianato, una media piccola impresa diffusa che è fortemente caratterizzata dalla presenza di un artigiano che poi magari nell'ambito familiare non trova un seguito e quindi si trova nel dubbio amletico di che fare della sua azienda. Certo, hai toccato un tema fondamentale. Purtroppo in economia, così come nella vita, così come negli aspetti sociali, la risposta è molto più semplice di quella che possiamo pensare. Sempre analizzando i numeri, i numeri ci dicono che il primo elemento che contiene, fa sì che non emerga la volontà del capo famiglia di cedere la propria azienda o comunque di passare la mano, è proprio un aspetto psicologico. Cioè il capitano di impresa, il proprietario dell'azienda ha un limite nella garanzia del passaggio generazionale, soprattutto perché non sempre all'interno della famiglia si trovano le persone competenti, ma soprattutto proprio perché il capitano di impresa è restio a concedere quello che lui definisce il suo giocattolo, quello che lui definisce il suo patrimonio più grande. Perché tu hai fatto un parallelismo sicuramente molto interessante che verrà sviluppato e analizzato venerdì. Il confronto anche territoriale, il confronto territoriale ad esempio tra nord e centro, dove emerge una dicotomia di analisi, perché se nel nord Italia abbiamo il concetto di industria, piccola industria o comunque una vocazione imprenditoriale legata alla produzione. Qui al centro abbiamo, soprattutto nel territorio marchegiano, un tessuto economico incentrato su determinati nauau. Pensiamo ad esempio a Pesaro con il mobile, pensiamo nel fermano al settore del calzaturiero, pensiamo al settore legato alla nautica. In tutti questi aspetti, in tutte queste sfere economiche abbiamo una certa dimensione e una certa vocazione alla crescita aziendale stessa. Pensiamo ad un'azienda del calzaturiero del fermano che per 50 anni la famiglia di 5-10 persone con il padre riferimento principale nell'azienda, la moglie, i fratelli, gli zii, nipoti. Cominciavano a mettere passioni in questa azienda, un'azienda che oggi si trova ad esempio a fatturare qualche decina di milioni di euro. Quindi un'azienda piccolina anche che fatturasse 13 milioni di euro però potrebbe avere ampi margini di sviluppo. E il momento del passaggio generazionale rappresenta un punto di interesse ma soprattutto anche un punto per comprendere se ci sono le possibilità di crescita ulteriore. Abbiamo tanti fondi di private equity che sono interessati non tanto al volume del fatturato ma sono interessati alla percentuale di sviluppo, cioè alla prospettiva di crescita dell'azienda stessa. Anche perché il tema centrale del convegno sarà capire come la globalizzazione ha cambiato, lo sviluppo economico e la definizione di un paradigma che può coniugare e definire quella che è la prospettiva di crescita di un'azienda. Quindi ci sono state delle crisi, dei limiti, ma queste crisi come dice l'acronimo cinese è anche sinonimo di opportunità. Quindi sicuramente il passaggio generazionale se preso con anticipo, se analizzato con tempo, se soprattutto spiegato, perché poi si tratta anche molte volte di trovare le corde giuste per giustificare una scelta. Una scelta che per molti non può essere giustificata. Faccio un esempio molto banale ma che secondo me rappresenta una giusta chiave interpretativa per entrare nel cuore del problema. Esiste in Italia il problema del passaggio generazionale all'interno di un'azienda? La risposta è sì, lo abbiamo visto dai numeri, lo abbiamo visto dalle statistiche e lo dicono anche le associazioni di categoria. Ad esempio in America un'azienda ha una vita media di 10 anni, quindi qui ad esempio il problema del passaggio generazionale non si pone. Quindi mettendo insieme questi due elementi ci sono degli interventi che possono essere fatti come protocollo di lavoro per garantire che cosa? La continuità aziendale. Non ci stancheremo mai di dirlo venerdì, la continuità aziendale deve essere un valore e non una capacità, un valore che deve essere tutelato, difeso proprio per garantire il percorso e garantire vita all'azienda. Ad esempio molte volte ci troviamo leggendo anche articoli accademici, leggendo interviste che giornalisti, imprenditori ma soprattutto esperti di economia sostengano che l'imprenditore fa fatica a trovare le persone giuste all'interno dell'azienda per condurre l'impresa. Perché un conto è avere il know-how, cioè competenze manageriali, un conto è avere la capacità imprenditoriale. La capacità imprenditoriale non è una tecnica ma è una cosa che abbiamo dentro, un aspetto che fa parte del nostro background non tanto culturale ma emotivo, nelle nostre capacità anche, fa parte delle capacità che trasmettiamo ogni giorno con i nostri comportamenti. Quindi la capacità imprenditoriale non può essere trasmessa, o uno ce l'ha o non ce l'ha. Quindi molte volte ci si trova davanti a analizzare le caratteristiche dei propri figli, quindi se parliamo di un proprietario di un'azienda e il proprietario dell'azienda stesso si accorge che all'interno del proprio nucleo familiare non c'è questa figura in grado di, secondo lui, di poter condurre questa azienda. Allora a quel punto che cosa si fa? Ci sono tante le domande e le risposte che si possono dare. Sicuramente la prima è quella di trovare un modello di governance adeguato e in linea con il tempo economico che stiamo vivendo. Ricordiamo che siamo entrati nella fase dell'industria 4.0, quindi una fase nuova dove il marketing e la comunicazione sono i principali pilastri, dove la globalizzazione è uno scenario che ha sconvolto i riferimenti, i paradigmi. Quindi adeguare il modello di governance è sicuramente importante. Soprattutto nel passaggio generazionale un proprietario di impresa deve garantire e premiare le competenze. Le competenze sono il motore fondamentale per definire una strategia di successo. Terzo punto, avere una strategia. Molti si trovano di fronte al mare magnum dell'incertezza, non sanno quali sono le tecniche, le scelte da prendere nel quotidiano e quindi non hanno una strategia. Quarto punto, esiste anche l'ipotesi di far sì che entrino in azienda dei manager esterni, quindi dei professionisti, degli elementi terzi, che possono sopperire queste mancanze, queste lacune, soprattutto quando il proprietario di azienda vede che nel proprio nucleo familiare, come dicevo poc'anzi, non ci sono, non emergono figure in grado di gestire questo cambiamento. È lì il punto dolente, perché in azienda, un'azienda familiare, il proprietario di azienda classico, fa fatica a dare le chiavi della propria azienda che ha costruito con successo e con fatica per decenni in mano ad uno pseudo sconosciuto, diciamo così. Quindi è questo un po' il limite che si risconta. Insomma, per sviscerare tutte queste argomentazioni avete messo in campo un parterre di relatori di primissima categoria, insomma. Leggo uno qui in testa, Tonino Pencarelli, che conosco anche personalmente, che sicuramente in questo ambito è uno che ha una grossa esperienza, una grossa valenza accademica. Beh, diciamo che per questo convegno, per questo tema, siamo stati costretti per mantenere il solito standard qualitativo elevato a coinvolgere persone, personaggi di primo livello per discutere e dibattere di questo tema. Abbiamo Tonino Pencarelli che è docente di riferimento dell'Ateneo di Urbino, docente di marketing, che ha scritto decine di libri, quindi una figura in grado di poter dare un contributo da un punto di vista privilegiato. Abbiamo Silvia Paci della Profiglass, che non ha bisogno di tante presentazioni, parliamo di uno dei principali gruppi sicuramente della regione e uno dei principali gruppi in quel settore dell'alluminio, penso a livello world, quindi globale. Abbiamo Vincenzo Borca della Finico, che ci potrà dare anche un punto di vista fondamentale su quella che è la loro esperienza con le aziende con cui collaborano per poter testimoniare anche degli aspetti critici che esistono. Sicuramente la Finico è un'azienda che potrà fornirci una testimonianza vera, autentica di chi ogni giorno si confronta, perché la Finico può essere un attore terzo che nel passaggio generazionale garantisce quella continuità di cui parlavamo, di cui abbiamo parlato con grande attenzione fino adesso, fino adesso in questo spazio televisivo. Il consigliere regionale Mirko Carloni, che oltre ad essere consigliere regionale ha scritto un libro su Banca Marche ed è anche docente universitario all'Università di Pisa, quindi una figura di livello che può portare la testimonianza anche a livello marchigiano di quelli che sono gli impegni che il consiglio regionale ha preso e sta prendendo per favorire comunque lo sviluppo aziendale e favorire la definizione del modello di business marchigiano. Poi ci sono io come Presidente che cercherò di tenere le fila di questo appuntamento e cercare, come dicevo prima, di partorire al termine di esso una sintesi autentica capace di poter lasciare a tutti i presenti una testimonianza, un'esperienza sicuramente interessante per la gestione, perché no, di un'azienda e per fornire a chi si trova davanti a questo dilemma di prendere le scelte giuste e di non commettere errori che potrebbero essere fondamentali, perché faccio un inciso, come sostiene l'associazione delle aziende che analizzano le criticità di impresa, ci sono due errori che si commettono statisticamente nel passaggio generazionale di un'impresa, quali sono? Uno, quando l'azienda prende e quindi apre il rubinetto del patrimonio, quindi dei risparmi per liquidare i soci, ci troviamo di fronte ad una situazione in cui vengono liquidati i soci e per liquidare i soci si prende il tesoretto, il patrimonio dell'azienda, questo è un aspetto che mette in difficoltà l'azienda perché la mette in una condizione di debolezza. L'altro aspetto quindi speculare, quindi l'altro aspetto fondamentale che viene definito è quello della mancanza di attenzione nel confronto del patto di famiglia, cioè di questo contratto che tutela tutte le parti in causa nel momento in cui viene meno il proprietario di azienda e così con questo patto di famiglia, quindi con questo contratto può essere tutelato e possono essere eliminate tutte quelle criticità, quelle discussioni che si possono fare nel passaggio di successione. Quindi questi due aspetti ci definiscono come questo tema ancora oggi, soprattutto nel nostro territorio, secondo il mio parere non è molto sentito, su questo tema non è stata attribuita la giusta importanza e questo convegno dopo quello di dicembre che abbiamo organizzato, dove abbiamo parlato di credito e di sistema bancario, oggi ci vogliamo concentrare sul tema proprio del passaggio generazionale ma soprattutto sul tema di come costruito il modello di business marchigiano e avere numeri alla mano, quelle che possono essere le soluzioni da mettere in campo per superare questo gap e porci in una condizione di tranquillità economica. Bene, un'organizzazione sicuramente stimolante, quindi l'appuntamento è per venerdì 13 alle 17.30 a Palazzo San Michele per conoscere quale sono, oltre a una fotografia del nostro tessuto socio-economico in questo ambito, le prospettive e le soluzioni che poi verranno prospettate dai relatori del convegno proprio su questo aspetto così attuale quanto mai, perché insomma i cambi generazionali alle volte sono fortunosi, altre disastrosi. Abbiamo assistito a figli che non hanno assolutamente saputo gestire il patrimonio e l'azienda di famiglia. Quindi un tema molto sentito, vista anche la vocazione artigianale, imprenditoriale, sartoriale come hai definito tu, del nostro tessuto economico, soprattutto anche nella nostra provincia. Quindi Jacopo, grazie per essere stato qui con noi. Ci va che è un piacere per me essere stato qui, per averti rivisto. Quindi do appuntamento a tutti a venerdì 13 aprile al Palazzo San Michele per il convegno azienda tra famiglie e management. Sicuramente un'occasione per riflettere insieme, per uscire con un po' più di esperienza su questo tema. Bene, grazie a tutti voi cari telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Quindi se avete interesse in questo ambito avete un bel appuntamento questa settimana, non mancatelo. e noi ci rivediamo ai prossimi appuntamenti. Buona serata a tutti voi, buonasera Ia. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori.